Con questo video vorrei parlarvi della figura del dietista. Secondo la normativa vigente, il dietista è l'operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione. Questa è la definizione che troviamo sul decreto ministeriale 744 nel 1994. Per diventare dietisti è necessario conseguire la laurea di primo livello in dietistica. Questo corso di laurea dura tre anni ed è uno delle lauree delle professioni sanitarie e tecnico-assistenziali della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Questi corsi di laurea sono tutti a numero chiuso ed è quindi necessario superare un test per poter accedervi. Il percorso di laurea è sia teorico che pratico. Infatti durante i tre anni di università lo studente deve svolgere numerose ore di tirocinio in diverse strutture. L'esame finale del corso di laurea in dietistica ha valore come esame di stato abilitante all'esercizio della professione. Questo vuol dire che il dietista una volta laureato è già abilitato ad esercitare la sua professione. Dal 2018 il dietista ha l'obbligo di iscriversi all'albo per esercizio della professione che rientra nell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitari tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Il dietista promuove e cura l'alimentazione di bambini, adulti e anziani in situazioni fisiologiche e patologiche. Elabora piani dietetici terapeutici in ambiente ospedaliero e in ambulatori privati. Garantisce la qualità e sicurezza dei servizi della ristorazione collettiva elaborando menu e diete speciali occupandosi della formazione del personale, effettuando verifiche ispettive e preparando i manuali di autocontrollo. Collabora con il Sian Servizi di Igiene e Alimentazione e Nutrizione per la tutela degli aspetti igienico-sanitari. Diffonde stili di vita sani e corrette abitudini alimentari. Realizza progetti di educazione alimentare per gruppi di persone e svolge interventi educativi. Progetta e realizza attività sperimentali o di ricerca. Vuoi diventare anche tu dietista? Consulta il sito della tua università. Ciao, grazie per aver guardato il mio video. Spero sia stato interessante e che tu abbia imparato qualcosa in più sulla figura del dietista. Buona salute a tutti! Grazie 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 a tutti!